Ci ritroviamo per presentare altri due nuovi ragazzi che si aggiungono alla nostra squadra. Nilsen che già da tempo è qui con noi, si sta allenando già da un po' di tempo, adesso i documenti sono a posto per cui è disponibile da subito. Grande club, Pescara, speriamo di andare a Serie A, grazie mille e sono felice per essere qui. E' una sorpresa perché io pensavo di... pensavamo di aver bisogno della signora e evidentemente parla quasi come Verratti lui già, quindi è a posto. Forza Pescara! Sì, forza Pescara! Attacca ancora il Pescara Cross di Nilsen e il più piccolo schiaccio in testa, per Insigne e l'ottava rete stagionale. Il nostro inizio è nell'esordio, subito assist. Grazie! 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 Nilsen, nel prossimo anno a Pescara? Sì, 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 sicuro, sicuro. Io credo che se lavoriamo tanto e facciamo il nostro lavoro è possibile salvarci il prossimo anno Grazie a tutti